Inaccettabile il bavaglio all'opposizione in Consiglio Comunale. E' pesante ma ben circostanziata l'accusa formulata stamane da parte dei consiglieri di centrodestra Giorgio Dobianco, Grilli, Declice e Canattaro, che hanno evidenziato come la discussione di documenti e emozioni presentati in Consiglio Comunale, spesso riguardanti situazioni urgenti, venga procrastinata le settimane successive. Bavaglio all'opposizione, la maggioranza di centrosinistra non soltanto boccia con regolarità le proposte che arrivano dal centrodestra ma questa nuova moda di fare in maniera di non discutere dei problemi reali in Consiglio Comunale. Quale esempio per tutti, ricorda Giorgi, valga l'atteggiamento della maggioranza di centrosinistra sulla mozione relativa alla sperimentazione della pedonalizzazione limitata al sabato delle vie Imbriani e Mazzini a partire dal 25 luglio. L'ultimo caso è la richiesta di sospensione urgente dei P-Day, quindi di quelle chiusure al sabato di via Mazzini e via Imbriani che probabilmente avrebbe incontrato il favore di tanti consiglieri anche della maggioranza e che invece grazie al voto di PD e qualche lista civica è stato procrastinato e andrà in discussione appena dopo l'estate. Anche la vicenda della mozione su Portovecchio presentata dal consigliere di SEL Marino Sossi rappresenta, secondo Giorgi, un tentativo di bavaglio anche all'interno della maggioranza stessa. La lunga mano della giunta tramite i capigruppo in consiglio comunale non soltanto bloccano e imbavagliano l'opposizione ma imbavagliano anche gli stessi componenti della maggioranza. Il caso della mozione presentata da Sossi è copiata il giorno dopo da un altro consigliere di maggioranza con il voto diverso sull'urgenza delle due mozioni, che vuol dire che la mozione originale di Sossi andrà in discussione chissà fra quanti mesi, mentre quella aggiustata per non dare fastidio alla maggioranza andrà in discussione già giovedì, dimostra che c'è il caos totale e la voglia di avere un controllo su quelle che sono le attività del consiglio comunale, cosa inaccettabile.